Musica Due settimane fa costava 1250 Però ho aspettato perché sono molto molto intelligente Ovviamente sto scazzando su uno scarso Però comunque ci sta Ho fatto un buon ragionamento di aspettare due settimane Così che potevo prendere lo 500 E' stato vi ricordo di lasciare un live Oggi andremo a provare anche Cordelius Seguitemi su TikTok e su Discord Quindi se devo link in esenzione Sesso link in esenzione In esenzione per abbonarvi Secondo link in esenzione Per comprare i miei t-shirt personalizzati di Xmax Se volete chiedere per Natale ragazzi chiedetele Mi supera il tanto Sono fatto 100% in cotone 100% in italiano Credete ai vostri genitori I vostri nonni I vostri familiari ragazzi vi raccomando Tanto vi ricordo che se le comprate Diventerete in modo 100% Mi ricordo potete tenerle ogni giorno Mentre faccio la live Ogni giorno mentre facciamo il video Questo video uscirà Non so se uscirà alle 10 del mattino O alle 14 Perché credo che venerdì nessuno va a scuola Comunque adesso ci penso Magari questa serie in live E lo rivende 30 Dato questo ragazzi Andiamo a prendere Cordelius Andiamo a provare ragazzi Sono veramente contento Sì Lo sbloccato con 169 gen Ma natelo sogni Andiamo a sbloccarlo Con i crediti cromatici Mamma mia ragazzi Cordelius Vuole fare subito 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 Il mio Il mio Screenshot Niente ragazzi No Non ho fatto lo Lo faremo dopo lo screenshot Lo faremo dopo lo screenshot Con Con il video E Va benissimo Va benissimo ragazzi Sono veramente contento Questo qua sì che lo miglioriamo Poi andiamo a migliorare anche Dug Andiamo a prendere il gadget di Dug Però ragazzi Cordelius si migliora Cordelius si migliora Subito a livello 7 A livello 7 Eccolo qua C'è il gaz Se scorre E lo scava Rapidamente In salto Una zona dell'aria Questo cos'è Invece L'attacco principale Successivo all'attivazione Del gadget Spera un fungo Venenoso Che impedisce Il nemico Colpito di attaccare Per un secondo Questo qua ragazzi Quello che mi hanno consigliato Di shoppare E questo è quello che shopperò Per provare Cordelius Scartato Tutta l'antivazione Mi dicono Che è il miglior brawler Nel gioco in questo momento Quindi ragazzi Ho deciso di comprarlo Scarlate ragazzi Scrivetevi nei commenti Se volete che faccio il video In cui faccio questa sfida Magari con un mio amico Ragazzi Scrivetevi nei commenti Tanto ci sono vite infinite Quindi sono abbastanza tranquillo Volevo un attimo Vedere quando scara Che nel video di ieri Non l'ho visto Quando scara Questo evento Così ve lo dico anche voi Se sicuramente Ve lo sapete già Tra tre giorni Questo video Lo sto registrando Venerdì No È giovedì Quindi Vabbè Manca ancora comunque Un po' di tempo Cosa che si può sbloccare Vi è un po' Ok un bello star drop Vabbè oh Si può sbloccare Una bella reazione Sono contento Ma ora ragazzi È il momento Di andare a giocare In singolo E provare Cordelius Vediamo un pochettino Ragazzi Se riusciremo a vincere Ovviamente ragazzi Leggendario Sto video Due video di Brawl Stars Insieme Ragazzi Prima sblocchiamo Da che Sblocchiamo Cordelius Ragazzi Più di così ragazzi Non mi posso portare I video più leggendari Di questi ragazzi Sono ovviamente Video leggendari Mamma mia ragazzi Conviatele a tutti I vostri amici Allora iniziamo a provare Cordelius Veramente ragazzi Bello Mamma mia ragazzi È subito fuori Poi ragazzi Ho già parlato A livello 7 Allora Ha un pochettino Una mira Piccola Però ragazzi La ulti è veramente La ulti ragazzi Di Cordelius Oh La mi sta Facendo comunque È la cosa bella Ragazzi Che posso fare La ulti Sta facendo Entrare il brawler Nella mia area Quest'area qui Oh no È vero C'è due vite Io mi dimentico Sì mai Questo brawler qui C'è due vite Allora Abbiamo anche la ulti Niente Dai Edixmax Quando sai Luscar soon Vabbè Ce l'ho già Ce l'ho Allora La utilizziamo contro Contro lui Anche se in realtà Non serviva Soramente per vedere Un attimo Come funzionava Veramente Veramente Bella Sta Tra l'altro Tu puoi anche Utilizzare Per scappare Perché Cioè Perché Non viene Nessuno Per scappare Un coltico Devo provare Anche il gadget In realtà Magari Questo qui Lo proviamo No è morto Speriamo che Questo guadagnosi Sicilia Perché Vorrei provare Il gadget Dai Dov'è questo Su È inutile Che scappa Non può scappare No È una figata Ragazzi Sai che Sarebbe che Ragazzi Che rischia di morire Qua Ragazzi Qua muoio Io Non la vingo Forse la vingo Però comunque E recupero Un po' di vita Bello Ragazzi Cordelius È veramente Bello Dai che Non può starare Dai che Non può starare E grande win Per noi Andiamo a fare pure La reazione di Cordelius Che è bellissima Mamma mia Ragazzi Hai vinto Ragazzi Lo so che ho vinto Andiamo a provarlo In footbrawl Voglio andare a provarlo Anche in footbrawl Ragazzi I want to provarlo Oh abbiamo fuori qualcosa Del qua Andiamo a prenderci E ragazzi Per sbloccare Sandy Ragazzi Ce ne vuole ancora Però vabbè Abbiamo iniziato a sbloccare Almeno Altri 70 gettoni per Sandy Quindi ci avviciniamo Sempre di più Però ragazzi Ora vorremmo andare a provare Cordelius Anche in In campetto Purtbrawl Voglio provarlo Ragazzi Mamma mia Ragazzi Veramente Legendari Sti video Legendari Ora Devo dire che ragazzi È veramente un buon brawler Cordelius Abbiamo due Cordelius In squadra Vabbè ragazzi Sta veramente Veramente Forte Anche lui Ce l'ha Ah no Perché ha quello lì Boh Non lo so Sono un po' uno scarsone Sono morto subito Però vabbè Tanto ragazzi Il chill Sì comunque ragazzi Questo gadget qua Di Cordelius È veramente buono Anche perché ragazzi Può fare tutto Dobbiamo fare pure una kill Non l'ha fatta lui La kill Però va bene Grande win Grande gol Subito 1-0 Vabbè 2-0 subito Veramente ragazzi Leggendario Veramente Veramente Leggendario Ragazzi Veramente Cordelius Io sono veramente Mi piace veramente tanto Tra l'altro oggi C'è un evento Pioggia di monete Raro Bello Monete Raro ancora Sono veramente ragazzi Contento di questo Cordelius Qui ragazzi Veramente Se non siete ancora Intanto ragazzi Entrateci Che è veramente Leggendario Ho detto questo Ragazzi Il video di oggi È finito Vi ringrazio Per aver visto Questo video Vi ricordo di lasciare Un like Con l'iscrizione Una campanella Condividere I video A tutti I vostri amici Seguite Mi studio Tocca su Discord Quindi Settiamo Link in descrizione Sesto Link in descrizione Bene Entratemi Sare Al Discord Per Link in descrizione Per abbonati Con un link In descrizione Per comprare Mi t-shirt Personalizzate Xmax Vedremo Chi sarà La prossima Per cento In cotone Italiano Ragazzi Terzo Link in descrizione Per fare Una piccola donazione Quarto In descrizione Per seguirmi Sul sito Viola Faccia La mea Anche Di Cote Prendimenti Con Buoni Giorni Live Le